Noi abbiamo, continuiamo a parlare di multinazionali o di Fiat, ma l'80% dell'economia italiana viene detenuto da commercianti e da artigiani, dalla piccola e media impresa, che questo governo ha completamente abbandonato. Guardi, le dico due cose, noi abbiamo fatto essenzialmente due proposte, su una ci teniamo molto e la riteniamo assolutamente urgente, che è quella della sospensione degli studi di settore. Ma le dico questo perché? Perché gli studi di settore nascono come un metodo di controllo, con criteri assolutamente sbagliati perché non avevano criteri territoriali, nascono in un momento dove la crisi economica non c'era, ed oggi quelle aziende che non fanno il fatturato richiesto dagli studi di settore, ma perché non lo possono fare, devono far quadrare i conti pagando un dazio dello Stato perché sennò sono soggetti ad ulteriori controlli. Quante piccole e medie imprese abbiamo chiuso? Quante imprese familiari sono state chiuse? Questa è la situazione del Paese, eh?